ehi la ciurma come vi ho promesso rieccoci su rising storm 2 come servere pieno ma dovevo continuare il video quello della scorsa volta cari io se riesco a entrare prima che mi buttino fuori beh sì ma ok che va passiamo song b non so se la conosco forse sì forse era quella di prima c'è in game vai se mi sa che è quella di prima sì io vado subito a charlie mi spiace ma stiamo prendendo il bravo il colo è stato attaccato Ah senza bravo non possiamo prendere Charlie probabilmente Allora Squad Leader sta andando a Delta C'è un altro tizio che mi... Altri due che stavano passando, aia, chi da dove, perchè... Poi andrei verso... Ecco se possibile... Bravo lo prendete o no? Ok abbiamo preso Charlie, ma senza bravo abbiamo preso Charlie Ah ha messo una mi... Eh ma non era nostro ecco comunque Ok abbiamo preso anche bravo Vedo che sta andando bene, voglio vedere se riesco a... Allora sopra c'è Delta e ci sarà una battaglia della malora per Delta, perchè Delta vale parecchi punti Non sto vedendo un Kaiser qui in mezzo all'erba ma... Eh niente ma loro mi hanno visto benissimo dall'elicottero Perchè non posso andare dallo Squad Leader però? Ma di nuovo ma mi ha ucciso un tizio, una della mia squadra Ma mi ammazza sempre dall'aereo, ma perchè? C'ho capito che non son bravo ma uccidermi non è il modo migliore per farmi imparare No? Che ne dite voi? Oh prima... Sono cucciato? Sì Ma puoi... puoi scavalcare sta su... Oh Ma... Però porca miseria se si bugga sull'affare lo scavalca e torna indietro Eh... Come team kill penalty? Ma allora... Era un mio alleato Ma che Kaiser? Ma allora dimmelo che è un mio alleato Ma... A certe volte si bugga proprio di brutto Oh... Aia! Tieni di pronto mazatesche qua Mi sa che da un attimo all'altro ci moriamo di brutto eh Ok abbiamo preso delta almeno recuperiamo un po' di punti No se ci prendono alfa però porca miseria Chi era uno dei miei o no? Vabbè stavo andando in quell'altra direzione quindi suppongo di sì Ma io non lo sto davvero capendo se sto uccidendo dei miei nemici o alleati Secondo me sto uccidendo solo alleati Perchè non mi appare più niente però... Eh... Ah ma no forse sono proprio le impostazioni del server Devo andare a Charlie anche di fretta Eh niente è ormai è tardi abbiamo preso delta E se andessi verso Echo invece? Mi spiegate come abbiamo fatto prendere Charlie se c'era uno proprio alla finestra di Charlie a uccidere la gente che passava Vediamo se ancora la finestra è quella idiota oppure no? Ce n'è comunque qua dei tizi eh? No non posso scavalcare dopo posso fare il giro No questo è visivamente asiatico L'ho visto là dietro Eh niente ma qualcun altro l'ho visto me Ero troppo l'ho scoperto dal loro lato effettivamente non avrei mai dovuto fare questo errore ma erano tutti bloccati e... Qua o ci muoviamo o perdiamo perchè stiamo perdendo di brutto Vediamo se stiamo in pieno territorio nemico qua eh Vediamo se siamo in pieno territorio nemico qua eh E va behee Gli ho scaricato un caricatore addosso non l'ho beccato una volta è bello stiamo prendendo alfa è il nostro posto alfa ma da dove ho guardato dappertutto ma oh l'ho mirato per bene ma vaffanbrodo l'ho visto mentre caricavo porca la mannaggia ladra e niente ci stiamo ripigliando un po' ma non ce la faremo a sopravvivere molto se andiamo in questo modo quello che non capisco come mai ho una precisione così scara cioè nel senso ero fermo sdraiato l'ho mirato bene con calma ho sparato vari proiettili e non l'ho colpito perché boh questo resta un grande mistero aia aia qua mi beccano eh no infatti ho preso la civ questo non è il tempo di sanguinare infatti ne ho ucciso uno ma ci sono morto nel tentativo e vabbè dobbiamo andare verso Charlie sto giro vabbè ma porca miseria gli ho sparato quattro volte c'è cosa devo fare più di questo l'ho visto gli ho sparato come faccio cioè ok che sono scarso ma gli ho sparato non è successo niente non è successo niente ti seguo bello no però non ho più stamida bello si è lanciato mi sa che è lui quello che stavo seguendo ah no è qua mi sembra di vedere qualcosa strisciare in questa direzione no forse era un glice grafico però non c'è un posto dove nascondersi là we have taken delta dai we have taken delta porca miseria e qua la situazione è critica a dire poco no quello è uno dei miei aia quell'altro no ah no invece si che era dei miei aia da dove straiettica porca miseria era un nemico non lo so eeeh mi sa di sì mi sa che è stato lui a uccidermi tutta questa parte qua sotto non la sapevo ci sono dei tunnel questo dove arriva che senso per Charlie mi sa di sì come ne esco però no non ne esco più no rimangono cinque minuti vincono loro l'ho visto l'ho visto l'ho visto ma non era da solo ce n'era un altro e non l'ho neanche ucciso non riesco proprio a capire perché ho non lo so se è il fucile che ha fatto male cioè boh che ha troppo poca precisione che ha troppo rinculo ma eeeh cioè davvero gli ho sparato ma non l'ho ucciso ma proprio per nulla entro gli altri boh un paio di colpi e muoio sempre forse perché hanno un livello più alto forse perché hanno un fucile migliore boh voi che siete esperti di FPS aiutatemi abbiamo preso eco sì ok però se non prendiamo eeeh bravo e o Charlie allora là c'è l'altizio alla finestra vediamo se no secondo me allora devo fare il giro di qua ah ne ho visto uno là dietro ma ce n'era anche uno nella casa eh me lo stanno contestando non riesco a prendere ahia da dove da dove da dove niente loro se ne fregano altamente da dove ho perso di brutto abbiamo recuperato un pochettino di punticini ma niente mi spiace mi spiace ciurma mi spiace io vi invito comunque a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non vi siete già fatti lasciare un commento qua sotto ciao a tutti e buona giornata